Quella di oggi è stata una giornata molto soddisfacente per l'intero team perché con Pulcino abbiamo ottenuto il settimo tempo nell'ultimo turno di prove. Siamo stati tra i pochi che non abbiamo utilizzato gomme nuove e di conseguenza siamo convinti che domani con le gomme nuove possiamo lottare per le prime tre posizioni. Anche con Kang Lin siamo andati bene, quando tutti erano in pista con gomme usate noi eravamo sempre nei primi cinque, poi chiaramente gli altri mettendo le gomme nuove sono riusciti a sopravvanzarci e quindi anche per lui ci aspettiamo domani un'ottima gara e un'ottima qualifica. Si è dimostrato molto competitivo durante la giornata di oggi e anche quella di ieri quindi sicuramente faremo un gran weekend di gara.